Ha una medaglia tra le mani, un riconoscimento che ha un suo peso. Sì, noi siamo veramente molto orgogliosi di aver ricevuto la medaglia del Presidente della Repubblica per questo evento. È la prima volta che l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare ottiene questo riconoscimento per l'importanza dell'evento che stiamo organizzando. Senta, questa particella che è stata scoperta, che è la colla che tiene insieme la materia, quindi ha l'origine di tutto? L'origine di tutto forse è eccessivo, però è un grandissimo passo in avanti per la comprensione di come la materia forte rimane nei nuclei. E questo è uno dei tanti tasselli che noi stiamo mettendo insieme per capire meglio la natura fondamentale delle particelle. È molto importante che sia stata trovata e noi siamo molto contenti che l'annuncio sia stato fatto alla nostra conferenza, che appunto è l'appuntamento di tutti i fisici internazionali per questo tipo di scoperte. Può spiegare a noi profani che cosa consiste questa colla, tanto per visualizzare, perché poi la materia è la materia umana, ma anche la materia che c'è in natura? Sì, allora, diciamo, gli atomi sono composti da un nucleo e dagli elettroni che ruotano attorno. Il nucleo a sua volta è composto da protoni e neutroni, neanche questi sono particelle fondamentali perché sono composti da quark. Per tenere insieme i quark occorre una forza che noi chiamiamo forza forte, forte perché proprio deve essere una forza molto intensa per tenere compatte i protoni e i neutroni. Questa forza forte noi la conosciamo, ma non in tutti i suoi aspetti. Deve fare delle particelle molto particolari. Si permette di conoscere in più in dettaglio e più in precisione gli aspetti fondamentali di questa forza. Naturalmente senza questa forza non potrebbe esistere la materia. Non abbiamo idea di quali possono essere applicazioni pratiche perché la fisica fondamentale cerca di capire i principi primi della natura e non le applicazioni. Naturalmente quanto meglio conosciamo la natura, quanto meglio la riusciremo a sfruttare, magari non oggi, magari fra 30-50 anni, però è solo attraverso la conoscenza fondamentale che si può avanzare anche nella tecnologia.